Alla fine il tanto atteso recupero che sotto sotto anche lo stesso Giovanni Legnini aveva fino in fondo sperato non c'è stato. Il 31,4% ottenuto dalla coalizione di centro-sinistra ha dovuto fare i conti con il 48% portato a casa dalla coalizione del neopresidente della regione Marco Marsilio che ha potuto beneficiare anche del traino della Lega primo partito nella nostra regione. La stessa cosa non si può dire per il PD che è scivolato poco sopra l'11%. In generale il civismo che avrebbe dovuto riavvicinare gli elettori alla coalizione guidata dall'ex vicepresidente del consiglio superiore della magistratura ha pagato solo in parte. Resta così il distacco di 17 punti percentuale dalla coalizione di centro-destra che come ha sottolineato però Giovanni Legnini deve rappresentare un punto di partenza eletto comunque non in maniera negativa anche in vista di un laboratorio nazionale. Beh certo insomma io penso che la via sia quella giusta ecco vorrei che non dimenticassimo il fatto che il centro-sinistra in Italia vive difficoltà, le viveva e le vive in Abruzzo e insomma abbiamo indicato una via, un percorso, la via di una coalizione larga, dell'apertura alla società civile, dell'apertura ai giovani, alle donne. Abbiamo rappresentato un'ipotesi politica concreta e questa ipotesi, questo progetto politico concreto ha conseguito più del 30 per cento dei voti, questo è il dato e invece all'interno delle forze politiche che compongono la maggioranza di governo vi è stato un travasso di voti molto vistoso, molto consistente dal Movimento 5 Stelle alla Lega. Peraltro noi abbiamo intercettato, questo mi sembra altrettanto vidente, una parte importante dell'elettorato che aveva votato lo scorso anno per il Movimento 5 Stelle. Il PD è il terzo partito in Abruzzo dopo Lega e Movimento 5 Stelle con l'11,4% e prosegue però la sua discesa libera nella nostra regione perdendo oltre il 14% di consensi rispetto alle regionali del 2014 quando aveva ottenuto il 25,51% con una perdita netta di 105 mila voti rispetto alle politiche del 2018. Il calo è stato invece contenuto visto che un anno fa il PD chiuse con il 13,8%. Nella coalizione di centro-sinistra buono il risultato della lista del presidente con il 5,5% e di Abruzzo in comune con il 3,81% più sotto le altre liste. No, il Partito Democratico abbia la necessità di ripartire, anzi doveva ripartire dopo il 4 marzo del 2018, ci abbiamo messo un anno quindi è sicuramente vero, però in questa campagna elettorale mi pare che non gli si possa rimproverare, non dico nulla ma non gli si possa rimproverare tutto, ci siamo messi a disposizione di un progetto diverso, abbiamo dimostrato grande generosità perché anche nelle altre liste civiche ci sono figure che sono, non dico espressione del Partito Democratico ma di questo campo progressista, è una coalizione che arriva intorno al 30% per me di positivo A che ha recuperato un elettorato che si era staccato non solo dal PD ma complessivamente dal centro-sinistra, certo è un bicchiere sicuramente per un quarto pieno.